Grazie, grazie, grazie mille, grazie mille, buonasera, buonasera a teatro Puccini. Allora, insomma, io ho un cane bellissimo e ultimamente ho passato molto tempo a osservarlo e mentre l'osservavo ho capito che sono molto fortunato a essere un uomo, perché i cani hanno un grande problema, esattamente come noi esseri umani provano tutta una serie di emozioni, rabbia, dolore, amore, ma per comunicare tutte queste emozioni hanno a disposizione una sola faccia, e cioè questa. È una tragedia, è per questo che i cani litigano sempre, non si capiscono. Era un cane incazzato, vuoi vedere un cane felice? Non serve, è la stessa faccia. Pensate se anche noi uomini improvvisamente avessimo soltanto una faccia e quella faccia fosse questa. Cioè, renderebbe le cose molto più difficili. Ma tu mi ami? Certo, perché? No, perché spesso non ne sono convinto del tutto. Come mai? Non lo so, è proprio una sensazione, ti amo. Grazie al cielo la situazione non è questa, perché noi per comunicare abbiamo innanzitutto un corpo. Adesso vi sto comunicando che sono un coglione, ma qualcosa me la sto comunicando. E poi soprattutto abbiamo una faccia che si modifica a seconda di quello che noi proviamo. Quando noi curviamo la bocca all'insù, le persone vedono che siamo felici. Quando curviamo la bocca all'ingiù, le persone vedono che siamo tristi. Ma la quantità di situazioni e di emozioni è così tanta che ci possono essere delle sovrapposizioni. Per esempio, noi curviamo la bocca all'ingiù anche quando vediamo qualcuno con cui vogliamo andare a letto. Quindi avete presente quel vostro amico che sembra sempre molto depresso? In realtà, forse, è solo molto arrapato. E poi ci sono le persone fotografate nei libri d'inglese. Persone straordinariamente naturali, che sembrano essere dotate della nostra stessa espressività, ma che in realtà vivono in un mondo infernale, dove è concessa una sola espressione per stato d'animo e basta. E chi sgarra finisce nel libretto degli esercizietti audio, su carta riciclata, in bianco e nero, con C di Rom, una vita di merda, una vita dove il massimo livello di raffinatezza è indossare una magliettina verde, un pantalone blu sbiadito, un cappello giallo con la visiera anni 90, praticamente come si vestono i tossici, un mondo dove il massimo livello di felicità è una cup of tea with some chocolate biscuits e possibilmente l'uso corretto del present perfect, un mondo dove non si capisce perché vengono tutti da Edimburgo, tutti. Where are you from? Edinburgh, tutti. Che poi veramente c'è da chiedersi, c'è Edimburgo quindi negli ultimi anni ha avuto uno straordinario incremento demografico, cioè non può essere questa storia. Poi per quale motivo io se leggo Edimburgo devo leggere Edinburgh? Non capisco, Edinburgh. Mario, Mauro, Mauro, ho sbagliato il tuo nome perché mi fa talmente nervosire questa cosa che io vorrei capire meglio questa questione, cioè perché io se leggo Edimburgo devo leggere Edinburgh? Ma perché è una cosa di questi giorni, è recente, non era così? No, 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 è da sempre. E stai aspettando a me? No, 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 perché io adesso sento che potrei ammazzarmi se non so questa cosa. Ah, sei entrato in questo... Sono entrati in questo loop. Te lo devo dire io. Adesso, dimmelo, per piacere. Beh, adesso abbiamo un'altra cosa da fare, però se io a te ci diamo, se puoi aspettare puoi resistere ancora un po', tu mi dici un punto dove tu mi aspetti, che io so che ti trovo là, dammi un punto. Ho preparato un cappio proprio lì. Dal cappio io mi rego, ma tu non ti muovi di là, io la vengo e te lo dico, ma stai scherzando, mi hai chiesto una cosa. E vedi.